mi trovo a kansas city la città del jazz dove è nato il bebop mi trovo al papa bob's barbecue a bonner springs a pochi chilometri a ovest di kansas city per la nuova sfida ho solo tre quarti d'ora per divorare quasi tre chili delle carni migliori e se ci riesco sarà la prima persona ad aver trionfato in questa sfida sarò il distruttore supremo o finirò distrutto dalla punta di petto di manzo al maiale sfilacciato papa bob affumica ogni tipo di carne esistente nella fumicatrice a legna com'è il barbecue qui da papa bobs barbecue affumicato di prima qualità credo che questo sia il posto migliore per la carne grigliata persino tra i più leggendari locali barbecue di kansas city il divoratore supremo di papa bobs la fada padrone essendo un mega piatto di sette tipi diversi di carne affumicata maiale affettato maiale sfilacciato prosciutto petto di tacchino punta di petto hamburger e salsicce che strategia useresti per vincere questa sfida beh penso che gli hamburger siano la parte più pesante perciò li lascerei per ultimi quale pensi che sarà l'ostacolo più duro da superare nella sfida secondo me il pane e le patatine ok sono in cucina con papa bob in persona bob caviar come fai a non dare fiducia alla cucina di un uomo che fa per cognome caviale voglio dire il barbecue risveglia quell'istinto carnivoro che è in noi tutti no nella sfida del distruttore supremo ci sono ben sette tipi di carne sette è come parlare di sette peccati prelibati è quello che avrai incredibile pazzesco la cosa fantastica è che poche anzi nessuna sfida è presentata con un opuscolo così patinato bene cominciamo a creare questo mostro io leggo e tu crei va bene va benissimo sparpagliati sulla prima fetta di pane dolce da 30 centimetri ci sono due etti di succulento maiale sfilacciato subito sopra altri due etti di maiale a fette affumicato papa bob aggiunge una generosa quantità della sua salsa barbecue fatta in casa e dopo ricopre le fondamenta con due fette di pane bianco per dare sostegno strutturale diventerà ancora più grosso il secondo livello ha due etti di prosciutto affettato e due di petto di tacchino un'altra piattaforma di pane bianco sorreggerà tre hamburger affumicati da due etti ciascuno gli hamburger mi hanno sorpreso qui non parliamo più di barbecue tradizionale affumichiamo gli hamburger davvero non l'ho mai mangiato un hamburger affumicato oggi lo mangerai pare che ne dovrò mangiare ben tre un altro po di salsa e un altro strato di pane a supportare il successivo assalto carnivoro due etti di tenera punta di petto e due etti di salsicce magre alla griglia oh mio dio sembra un tram di san francisco papa bob lo ricopre con altra salsa e lo completa con la seconda fetta da 30 centimetri di pane dolce bandiere rivendico questo panino in nome della francia ed ecco il tuo distruttore supremo adam aspettate un momento non è finito per la vostra gioia culinaria ci aggiungiamo anche mezzo chilo di patatine mezzo chilo di patatine mezzo chilo non riesco a immaginare come tutta questa roba possa entrare in un essere umano penso che mi servirà un marsupio sarà semplicissimo augurami buona fortuna buona fortuna ora il più grande panino di kansas city è completo ed è ora di darci dentro e di vincere la sfida adam ti stai per tuffare nella sfida del distruttore supremo avrai tre quarti d'ora per conquistare il titolo del distruttore supremo adam che la buffata abbia inizio non è fantastico non è fantastico ops e vuol dire che questo è il mio primo boccone sì veramente ottimo ma col pane sarà una lotta ho mangiato pochi bocconi di questo mostro di carne e capisco che dovrò adottare una strategia forse è meglio farlo a pezzetti e poi mangiarlo se farò così dividere e conquistare il tacchino e il maiale sono deliziosi se di volo tutto in 45 minuti entrerò nella storia mangiano qui gratis e avrò diritto a una foto sul muro della gloria ti distruggo la mia strategia del dividere conquistare funziona sono contento di avere intrapreso questa strada e incoraggiante sono passati cinque minuti e ne ho già distrutto un terzo un terzo un terzo ma tutta quella roba mi sta facendo sentire un po pieno c'è così tanto pane è tutto molto asciutto dovrò usare la salsa il più possibile e così dovrò improvvisare proprio nel nome del jazz di kansas city provo a buttar giù qualche patatina adam sono passati solo dieci minuti e sei quasi a metà dell'opera vai stavo facendo passi da gigante finché non mi sono imbattuto nella barriera di hamburger l'hamburger non scherza è un ostacolo più grande del pane e carne asciutta e gustosa ma è asciutta provo a mangiarmi un succoso sottaceto provo a riempire la carne di salsa devo continuare a condirla è troppo asciutta per riuscire a mangiarla così ma nulla riesce ad alleviare il peso di mangiarsi tre hamburger giganti affumicati e il tempo scorre impietoso la punta di petto è ottima il maiale è divino il tacchino incredibile ma saranno gli hamburger a distruggermi sono rimasti dieci minuti e c'è ancora tanto da mangiare forza puoi farcela adam lo so continuerò a mangiare senza fermarmi con pochi minuti al termine quasi in metà del distruttore ancora in piedi mi butto a capofitto nell'impresa ma alla fine dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno sono stato distrutto dal distruttore supremo devo ammetterlo è una sfida deliziosa però se non fosse per quegli hamburger hai fatto un figurone comunque adam grazie mille davvero vorrei anche ringraziare le stupende persone di casa city grazie a voi ecco la tua spilla se me la attacchi potrei anche scoppiare sì è possibile oggi il cibo trionfato ma almeno ho la spilla sotto con le domande come mai non hai trionfato in questa sfida colpa degli hamburger sì tu lì di fronte ti piace ancora il barbecue di kansas city sai una cosa il resto del panino era così buono davvero delizioso mi piacerebbe tornare qui per farmi un pasto a misura d'uomo ascoltare del buon jazz e divertirmi in questa stupenda città grazie a tutti